Ciao a tutti amici di Youtubers, oggi sono qui per mostrarvi un tweak veramente molto carino chiamato Dreamboard questo video è esclusivamente a scopi illustrative e non voglio incidare alcun tipo di hackeraggio bene, come dicevo si chiama Dreamboard ed è, si è craccato ma comunque come vedete è free ed è di modmine come vedete qui sotto, ecco qui ed è, si può installare e confermare naturalmente come sempre bene, ecco qui il nostro tweak voi direte direttamente cosa fa questo tweak beh, questo tweak serve a cambiare il modo di vedere il nostro iPhone cioè, come vedete questo iPhone è fatto con le icone come sempre così con le cartelle e così via ma comunque possiamo cambiare il tipo di visualizzazione quando mettete Dreamboard vi comparirà questo qui che è di default infatti se entriamo su un Dreamboard vi dirà default e poi vi metterà di suo questo chiamato Android Android è piuttosto stupido e semplice ma infatti come vedete è anche poco adattato per iOS cioè iOS 6 è adattato però non per iPhone 5 come vedete poi è maleabile basta cliccare su questo e troveremo tutti i nostri programmi messi per nome per renderla facile e poi su più mettendo su Edit Mode come vedete benvenuti su Edit Mode potremo cambiare il nostro tipo di vedere l'iPhone per esempio qui dice cosa ci vogliamo mettere? mettiamoci il bullying ecco cliccando là verrà il bullying naturalmente questo tipo di gadget come vedete non funziona comunque vabbè si può benissimo lasciar perdere poi per riuscire basta togliere l'Edit Mode ed ecco qui questo è una cosa principale poi basta cliccare Dreamboard di tornare su default ed ecco qui che siamo tornati sul nostro normale iPhone funziona perfettamente riceverete anche di là notifiche potrete entrare sui giochi ora non ve l'ho fatto vedere ma si può fare e così via poi come avrete notato io ho più icone lì sotto naturalmente poi farò altri video in cui farò vedere come mettere anche quelle bene ciao a tutti da SuperYouTube17